E' tutto pronto al bocciodromo di Via dei Lecce a Tavernelle, sito scelto dall'Asuri, dai comuni di Colli al Metauro e Monte Felcino per ospitare anche in questi territori i tamponi di massa. Ci si potrà sottoporre al test da domani fino al 20 gennaio, dalle 8 alle ore 13 e dalle 15 alle 19. A queste date va aggiunta quella di giovedì 21 ma soltanto nell'orario mattutino. Non servirà la prenotazione, sarà sufficiente presentarsi con il modulo compilato, scaricabile dal sito dei due comuni e distribuito dai volontari della protezione civile e della Croce Rossa presenti fuori dalla struttura. E' un momento molto atteso qui a Colli al Metauro, finalmente partiamo anche noi con questi screening di massa organizzati dalla regione Marche e dall'Asur. Sono inizialmente partiti i comuni di Pesaro e i comuni di Urbino, poi si è seguito Fano, ora è il nostro turno dei comuni dell'entroterra. Qui abbiamo messo in moto una macchina amministrativa e organizzativa veramente importante, come si può vedere qui da questo salone. Abbiamo quattro postazioni per il tampone rapido e una per il tampone molecolare. Insomma ci aspettiamo una bella risposta da parte dei cittadini, è una bella iniziativa che serve a tracciare i positivi asintomatici, un'operazione molto importante per fermare insieme, ognuno con il proprio contributo, questa pandemia. Nei momenti difficili serve responsabilità da parte di tutti e a tutti i livelli, ha detto Giuliani. Non voler conoscere la verità per una questione di comodo non è mai una soluzione, è come rimandare un problema, non affrontarlo, facendo finta che non c'è. Ma qui ne va della salute delle persone, serve coscienza collettiva e non è più tempo per i personalismi. D'accordo con il sindaco e il coordinatore dell'USCA, Fabrizio Valeri. Il fatto di venire è una cosa che deve essere un'abitudine, venire allo screening, fare il tampone che non dà fastidio a nessuno e che non ha nessun effetto collaterale, quindi venire, però il dire non vengo perché se sono positivo non posso più uscire, però capite bene che se sei positivo e attacchi la tua famiglia, attacchi gli anziani, attacchi la gente, è pericoloso. Stiamo assistendo ad un aumento importante dei contagi, dei positivi, perché durante le feste non ci siamo comportati bene. Del 25 in poi si sono riunite le famiglie, è stata una bella cosa, però si sono attaccate tante di quelle malattie, la positività crescono di giorno in giorno. Il fatto di partecipare è un atto culturale positivo dal punto di vista sanitario, comportatevi bene, cercate di rispettare tutte le distanze, l'igiene delle mani e venite a fare lo screening. Sono tutte cose importanti, ma non forse per voi, ma per chi è vicino, per i vostri anziani, per i vostri parenti.